Secala al centro dell'attenzione del Consiglio Comunale. La cherella riguardante i problemi legati alle discussioni da parte della società è stata portata in aula a martedì da un'interrogazione di Ninansini e mercoledì da due mozioni. Una firmata ad otto consiglieri d'opposizione ed illustrata da Vittorio Curedda e l'altra da Valdo Di Rolfo. L'indice della minoranza è stato puntato soprattutto sull'attività della San Giorgio, partner privata in Secal e sull'errata sorveglianza ed azione dell'amministrazione comunale. Agli appunti mossi da Curedda, Di Nolfo, Enrico Daga e Matteo Tedde, ha risposto l'assessore comunale di finanze e bilancio Michele Paes. La votazione dei due documenti presentati è stata rimandata ad una prossima seduta, da fissarsi sicuramente dopo le festività pasquali alla presenza dei revisori dei conti.